ciao ragazzi benvenuti all'autoplay di oggi vi faccio vedere questo riff che vi ho appena suonato partiamo con un do e dobbiamo fare queste note do la e sol do tasto 3 corda di la la corda di mi tasto 5 e sol corda di mi tasto 3 quindi do do la sul do giocheremo su questa cosa ritmicamente ed anche armonicamente perché quando andremo a spostarlo andiamo tutto in su di un tono quindi prenderemo un re si e la quindi facciamo do do la sol do poi per ritornare a do faremo un un sol la do do la sol poi per andare a re un prendiamo il la e il si che vanno a re un per ritornare poi al do passeremo ancora dal sol la particolarità è che quando ritorno sul sol e poi riparte dal do partirà un ottavo prima del del battere e quindi andrà con un legato ad unirsi all'inizio del nuovo giro ve lo faccio sentire lento con la batteria che è la cosa migliore per esercitarsi ok bene provate a suonarlo fatemi sapere se vi piace se avete dei dubbi o delle domande io sono qui grazie a tutti ciao al prossimo video carlo